buongiorno a tutti e benvenuti al nostro webinar per doti gianni aspettiamo ancora qualche secondo in modo da far arrivare tutti gli ospiti intanto io mi presento io sono silvia godi program manager per il dipartimento cosmetico di prodotti gianni intanto vi do qualche informazione sul webinar con il webinar di oggi io il collega simone augusto lombardi desideriamo condividere con voi il nostro progetto safe and sun il webinar dura 20 minuti circa più una sessione di domande e risposte alla fine per eventuali domande potete digitarle in chat o aprire il microfono alla fine fare la domanda a voce il webinar sarà registrato e manderemo la registrazione a tutti i partecipanti oggi nel pomeriggio qual è l'agenda di oggi oggi faremo una breve panoramica del mercato sun care e poi introdurremo il progetto safe and sun come è nato come si è sviluppato e quali sono le prossime fasi infine simone presenterà la formula stf 50 e cv live protection body defense cream ecco direi che possiamo cominciare con una breve panoramica del mercato sun care il mercato globale dei prodotti sun care è stato stimato a 13 miliardi e mezzo di dollari nell'anno 2020 e si prevede di raggiungere una dimensione di 20,1 miliardi di dollari entro il 2027 crescendo ad un cagare del 5,8 per cento nel periodo 2020-2027 il sun care si è evoluto da quello che era un segmento stagionale limitato alla spiaggia e all'esposizione al sole all'aperto a un segmento che però spera quasi tutto l'anno come un essenziale quotidiano i consumatori sono molto più informati e guidano la domanda di prodotti che riparano e proteggono la pelle dai danni del sole e che si integrano facilmente nella loro io ho delle pubblicità mi sono arrivate mentre la categoria come spiegavo si evolve c'è un aumento nello sviluppo di nuove innovative formule funzionali che si adattano bene sotto il trucco che sono facili da riapplicare che promuovano benefici multitasking come la partezione della pelle e allo stesso tempo beneficio per varie problematiche individuali della pelle la prossima generazione di prodotti solari comprenderà una vasta gamma di formule formati che spazzano i gel, dalle schiume, gli oli, i siri, gli stick solidi al fine di atterrare ogni età, tipo di pelle e tono della pelle infine le crescenti preoccupazioni dei consumatori riguardo alla sicurezza stanno costringendo la categoria solari a innovare con prodotti sempre più naturali e clean oltre a spingere i marchi a sviluppare formulazioni che siano sicure per le persone e per l'ambiente in linea con queste richieste emergenti dal mercato ecco che abbiamo sviluppato il progetto Safe & Sun Progetto nato a inizio 2020 dall'idea di aiutare i nostri clienti a ottenere formulazioni ad alto SPF attraverso l'utilizzo di filtri fisici supportando nella scelta delle materie prime idonee e con una particolare attenzione alla texture e alla sensorialità Oggi grazie al magnifico lavoro del nostro team R&D possiamo presentare il risultato della prima fase di questo progetto un kit di 10 formule, sun care ed eco-friendly, testate per SPF con spettrofotometro Shimatsu a SPF 15, 30 e 50 testate per UVAPF, lambda critica e rapporto SPF label UVAPF L'intento nel nostro progetto era quello di creare formule con 5 fondamentali caratteristiche performanti in termini di SPF stabili, con il minimo numero di ingredienti con costi formula contenuti e con una sensorialità piacevole Prima di passare la parola a Simone che vi spiegherà la parte più tecnica di questo progetto vi anticipo quelle che saranno le prossime fasi del nostro progetto Safe & Sun Quindi dopo la prima fase che è quella del kit di 10 formule solari a base di filtri inorganici lavoreremo su formule solari a base di filtri misti inorganici e organici poi su formule a base di filtri esclusivamente organici valorizzate dalle nostre materie prima ad esempio in termini di texture attivi, utilizzo di esteri per migliorare la dissoluzione e evitare la cristallizzazione dei filtri organici e come fase 4 di questo progetto Safe & Sun su cui stiamo già lavorando vi vediamo un make up solarizzato quindi un make up con SPF a base di filtri inorganici Per qualsiasi curiosità avrò il piacere di rispondere alle vostre domande alla fine della presentazione ora passo la parola a Simone Buongiorno a tutti, sono Simone Augusto Lombardi Technical Specialist del Laboratorio della Divisione Cosmetica di Prodotti Gianni prima di presentarvi la formula che è il principale oggetto di questo seminario flash vi illustro per qualche minuto il percorso riguardante il progetto appena presentato da Silvia il primo step Simone si è mutato il microfono scusate quindi step selettivo lo step spettrofotometrico e lo step che abbiamo chiamato creativo ovvero quello formulativo step selettivo cioè lo studio e la selezione delle materie prime più adatte e performanti per la formulazione di prodotti solari attingendo dal nostro amplissimo portfoglio di vari fornitori abbiamo utilizzato, come ha già detto Silvia, filtri UV esclusivamente organici nelle 10 formule del kit infatti troverete gli zano di overcare non rivestiti, quindi zano 20, 10 e M in ordine decrescente in termini di protezione UVB e crescente in protezione UVA gli zano plus rivestiti con tritossica per il silano e gli xperse che sono varie dispersioni di zano sia rivestito che non dispersi in trigliceridi con o senza biossidio di titanio poi abbiamo utilizzato anche i filtri organici dell'altra casa mandante sentient in particolare l'UVRT o 2S che è una polvere di biossidio di titanio nella forma rutilo la forma meno fotocatalitica rivestita con silica e quindi idrodisperdibile oppure il Covascreen WTI che è una dispersione idroglicerica di biossidio di titanio al 60% agenti bagnanti di alzo per esempio il TriventoCG la triclapilina l'Elefac i205 l'Octil 12 neopentanoato oppure il Bintree, il metil eptil esosterato l'Evident Solve per esempio di Evident appunto la trieptileptanoina oppure ancora l'etil olivato dell'anicco agenti disperdenti come il Dermol MBDD di alzo che è un disperdente copolimerico derivante dal burro di mango e l'Exalim PR15 dell'anicco il poligliceril 6 poliricinoleato che ritroveremo poi nella formula ovviamente emollienti vari con varie caratteristiche e texture e una serie di ingredienti attivi questo per arricchire un po' lo storytelling la funzionalità delle formule e per accontentare il bisogno di multifunzionalità del consumatore in finale abbiamo utilizzato da antiossidanti tambuster, idratanti anti aging secondo step la fase spettrofotometrica che è consistita essenzialmente all'inizio nell'acquisto dello spettrofotometro l'ultimo modello della giapponese Shimatsu 2006i con sfera di integrazione in questa fase abbiamo raccolto qualche decina di formulazioni solari sia preparate internamente dal laboratorio Gianni negli anni passati che è dal nostro fornitore Evercare per poter finire in questa raccolta le formule dovevano essere testate almeno in vitro meglio se anche in vivo ovviamente denti certificati e in questa fase abbiamo valutato l'accuratezza e la precisione del nostro laboratorio nell'eseguire i test in vitro confrontandoli ovviamente con i risultati dei laboratori esterni sfruttiamo questa occasione per specificare che non vogliamo assolutamente né possiamo sostituirci ai centri accreditati eccellenti che abbiamo in Italia che eseguono dei test ma solo avere una stima di CEPF in vitro di UVAPF e dell'Anda Critica con due obiettivi ovviamente conoscere meglio le nostre materie prime e ovviamente garantire un servizio ai clienti aiutarlo nella formulazione dei solari che forse fra le più le più complesse che richiedono mesi di lavoro e che sono un percorso lungo e tortuoso quindi accompagnare i clienti prima della spara di Damocle relativa ai test da parte degli enti certificati lo step 3 è la fase creativa ovvero quella formulativa con l'intento di creare delle formule ovviamente performanti in termini di potere filtrante stabili con un minimo numero di ingredienti possibile e voglio ricordarvi che in questo progetto nel kit ci sono formule prive completamente di peg e acrilati con tutto quello che comporta in termini di difficoltà di stabilità e anche di texture costi formula contenuti e poi una sensorialità gradevole ovviamente diciamo dal punto di vista strategico abbiamo cercato di allontanarci dai benchmark nel mercato che spesso sono molto pesanti difficilmente spalmabili e scarsamente accettati dai consumatori finali ora andiamo a vedere la formula che è questo il CPF 50 globalmente diciamo naturale che contiene lo zano 10 al 24% è un acqua un acqua in olio il film finale dopo la sfarmatura quindi l'after fill non è grasso però sicuramente spesso è ricco è sbianca sicuramente questo anche relativo alla protezione da parte di UVA che purtroppo sento un eco scusate ok dell'UVA che purtroppo sono in contenuto con la luce bianca per cui in questo tipo di formulazione ottenere un potere filtrante in UVA necessariamente porta a un effetto un effetto bianco ci sono vari ingredienti chiave che adesso li vedremo nel dettaglio e la formula è stata attivata da un attivo interessantissimo Liposhield HEV melanin di Vantage questa è la formula fase A abbiamo la fase lipidica contenente il Bintree dell'Alzo certificato Ecosert che è un estere leggero in colore che in virtù della ramificazione sia dalla parte alcolica che di quell'acida dell'estere garantisce un fill sicuramente leggero un discreto assorbimento un altro fill asciutto e sicuramente non unto ed è un ottimo bagnante per le polveri compreso ovviamente il nostro amato Zanu e OO della giapponesi Nikko che è costituito essenzialmente da acidi grassi di olio d'oliva esterificati con etanolo in cui l'estere preponderante è essenzialmente l'etiloleato quindi un estere a catena corta da un lato e catena insatura dall'altro per questo un estere a rapidissimo assorbimento e bello asciutto anche lui un buon bagnante dell'Ozzano Leviker Tocosoi che è una miscela di tocoferoli beta gamma antiossidanti di formula ricordo che è derivante da soia non OGM poi CCC Mass Balance che è una miscela di esteri di alcoli d'olio di cocco esterificati con acido sia caprilico che caprico che è un estere tipicamente utilizzato nei solari infatti lo troverete praticamente in quasi tutte le formule diciamo ad alto contenuto di naturalità fortemente utilizzato nei solari per l'effetto bagnante come emolliente dalle caratteristiche diciamo medie in termini di sensorialità di spalmabilità e di risiduo presente al 10% quindi costituisce la parte preponderante della cascata dell'emollienza l'iposorb O sempre di vantaggio estere del sorbitano con acido grasso insaturo acido oleico che garantisce una certa fluidità e l'hexac in PR15 il poligliceril 6 poliuriceno oleato che è un oligomero dell'acido riceno oleico è stilificato con 6 moli di glicerolo che è un ingrediente bifunzionale molto interessante sia perché è un surfattante non etossilato di origine vegetale che funge da coemulsionante acqua in olio ma è utilissimo perché funge anche da disperdente dello zinco nella formula in particolare un disperdente che agisce in maniera sterica quindi rivestendo le particelle ed evitando la flucolazione nel tempo altro ingrediente essenziale chiave in questa formula è il dermol MBDD che è sicuramente critico per la texture che è un poliestere emolliente sicuramente viscoso che è in posizione 2 della scala dei gialli di Gardner quindi è leggermente giallo che deriva dal burro di mango e canola e che ha un noi di uno e ha essenzialmente tre diverse caratteristiche utilissime nella formulazione dei solari innanzitutto è sostantivo quindi crea un bel film spesso e conferisce water resistance caratteristiche essenziali per i solari sia lo spessore del film che la water resistance è un ottimo disperdente per le polveri compreso lo zano anche lui agisce in maniera sterica come l'exgrin PR15 e un'altra caratteristica importantissima è che hanno elevato un indice di rifrazione di 1,482 quindi aumenta l'indice di rifrazione del mezzo anche questo è un aspetto da considerare essenziale nella formulazione dei solari perché aiuta l'ottenimento dell'SPF Heavy Care Lipotech Lipotech POF di Evident un 9 dell'1% food grade derivante dall'olio di canola lui inserito all'1-3% in emulsioni acquinolio funge da viscosizzanti lipo e in questo caso anche da thickener anche questo aiuta l'SPF in quanto implementa lo spessore lo spessore del film essenziale nelle formulazioni solari soprattutto quelle total inorganiche abbiamo inserito in questa formula lo zano 10 lo zano non rivestito e il 10 è la versione più bilanciata in termini di protezione UVB e UVA e anche lui ovviamente contribuisce allo sbiancamento essendo l'UVA come detto prima in continuità con la luce bianca una cosa essenziale riguardante la fase acqua è che in tutte le forme del canvas la fase acqua è uguale o maggiore di 7.1 questo perché a pH inferiori quindi dal neutrale acido lo zinco a contatto con l'acqua può diventare ossido di zinco liberazione di OH- e quindi potrebbe creare problemi e instabilità nonostante sia un acqua in olio consigliamo sempre di misurare il pH anche della fase acquosa produrlo di sodio quindi un sale inserito per rendere più negativo il potenziale Z delle goccioline disperse e quindi migliorare la stabilità dell'emulsione e propandiolo umettante isomero strutturale delle propili in glicole riconosciuto per la sua forte eudermicità e per il tocco sicuramente più leggero per esempio della della glicerina che non abbiamo inserito in formula un po' anche per controbilanciare il dermol il dermol mbdd poi scusate sono arrivato sodio cloruro zenea quindi levisid rose che è un preservante non ionico indipendente dal pH con spetturazione abbastanza ampio ma più direzionato verso le muffe e gram negativi che nella formula è aiutato dalla presenza dello zinco stesso e poi comunque ricordiamoci che abbiamo a che fare con l'emulsione acqua in olio quindi in termini di attacco microbico è sicuramente meno suscettibile rispetto all'emulsione olio in acqua il Luxil Cosmetic Microspheres che è una polvere di bolosilicato di calcio alluminio ha un diametro medio di 11-13 micrometri molto leggera sferica non porosa e non absorbente che è inserita con due funzioni sempre per controbilanciare le diciamo l'effetto dell'MBDD e inoltre conferisce al film dopo l'applicazione un potere ovviamente di riflessione diffusa che contribuisce alla performance ottica del prodotto quindi attenua la radiazione solare come attivo infine l'ipushiel dei CV melanin 10% sol che non è altro che una soluzione acquosa al 10% di melanina frazionata da usare dallo 0,1 allo 0,5 che assorbe pressoché selettivamente la fascia 400-500 nanometri che arricchisce quindi lo spettro di assorbimento della formula per la luce viola blu quella prossima ai raggi UVA quindi la luce bianca ha più alta energia con un fortissimo potere penetrante è capace di generare in maniera massiccia ROS a livello cutaneo che sono coinvolti nel fotoinvecchiamento nella risposta infiammatoria comunque a effetti inucidi a livello cutaneo è un liquido ovviamente un analogo sintetico derivante da tirosina vegetale della eumelanina quindi questa soluzione è molto marrone va aggiunta sotto i 45 gradi e potrebbe dare un colore giallastro nocciola la formula questa formula in effetti è leggermente gialla color 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 avorio e per bypassare questo che potrebbe essere un problema è bene formularla utilizzarla in emulsioni acqua in olio non a caso abbiamo deciso di inserire questo attivo in emulsioni acqua in olio in quanto la melanina va a inserirsi nella fase interna l'acqua per cui la fase esterna controbilancia evita l'effetto nocciola poi ovviamente il profumo il latte di cocco offerto da Mugliel & Coaster interessante perché ho delle note non pervasive dolciastri di cocco ma è molto delicato in generale polveri di zinco il rapporto polveri di zinco fase grassi deve essere intorno uno a uno bisogna garantirsi di aver inserito già ovviamente i bagnanti ovviamente i disperdenti già in formula e come vedete qui l'ipotex POF aggiunto dopo aver disperso bene lo zano e poi l'emulsionamento classico acqua in olio dopo aver misurato il pH dell'acqua poi al raffreddamento intorno a 45-50 gradi l'inserimento del profumo del calcio alluminio borosilicato della melanina e del profumo questo velocemente un riassunto della formula della strategia formulativa che abbiamo adottato quindi ora se avete domande bene grazie mille Simone e grazie a tutti per la partecipazione se avete domande potete o curiosità potete scriverle in chat oppure aprire il microfono e farle direttamente a voce per qualsiasi approfondimento tecnico o campioni di materie prime o campioni delle formulazioni e per il book del formulativo potete contattare il vostro tecnico commerciale di riferimento oggi pomeriggio manderemo la presentazione e la registrazione del webinar così è possibile rivederla e eventualmente condividerla con i colleghi e ecco se non ci sono domande allora possiamo salutarci vi auguro una buona giornata e grazie mille a tutti grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti